di Cravattano. Questore, quale storia c'è alle spalle dopo l'arresto di questo pregiudicato di Canicattì? Allora, non è tanto la vicenda sulla quale la persona è stata arrestata e se ne occupa la magistratura e ispetterà la magistratura a fare le valutazioni. È l'esito della vicenda che ha visto ferito in maniera per fortuna non troppo grave 20 giorni di prognosi e chimosi, sfregiature, tutta la parte destra del corpo un po' ammaccata e graffiata per essere stato travolto da una moto di grossa cilindrata con a bordo questo malvivente. Ma è un richiamo all'attenzione di tutti e tutti unitariamente perché queste cose avvengano sempre meno, da un lato perché ci deve essere un'attenzione sempre maggiore da parte nostra, forse di polizia e apparato dello Stato, ma deve essere uno sforzo corale e uno sforzo con obiettivi comuni e ben definiti e contemporaneamente l'assicurazione da parte delle altre parti della società civile, non solo i cittadini ma anche le associazioni, gli enti locali, i comuni, le polizie locali, gli esercenti dei negozi e dei pubblici esercizi. Signori, quello a cui assistiamo, di cui spesso ci doliamo, anche talvolta il fatto che i nostri figli, i nostri nipoti, i figli, i nostri amici hanno un gravissimo incidente, sono coinvolti in un fatto delittuoso particolare e ci sorprende perché non è nella loro indole. Domandiamoci perché avvengono queste cose, domandiamoci se certe abitudini che stiamo consentendo di maturare nei nostri giovani siano abitudini sane. Se, come è capitato a me ieri sera, ve l'ho detto, rientravo a tarda notte, erano oltre le due e passavo qui sotto, sotto la questione nel pieno centro e ho visto tre ragazze di un'età compresa tra i 15, 16, 18 anni, non di più, tutte e tre barcollare e a un certo punto ha iniziato a vomitare la prima, ha fatto così la seconda e anche la terza. Signori, si tratta di minori, lo ricordo ai genitori e a tutti i genitori, e di minori che stanno in quelle condizioni in piena notte. non va bene, nel nostro contesto normativo c'è un obbligo in capo ai genitori o a chi ha funzioni di patria potestà o esercita funzioni di garanzia nei loro confronti a sorvegliare la loro attività. Lo ripeto, l'ho detto a voi, l'ho già fatto a Caltanissetta, lo fanno parecchi colleghi in giro per l'Italia, è un nostro dovere, io nel momento in cui riscontrerò situazioni di questo tipo, chiedo a tutte le forze di polizia nella qualità di questore e autorità tecnica di pubblica sicurezza di segnalarmele e di segnalarle ai servizi minorili della giustizia, perché vuol dire che non c'è un adeguato controllo, una volta potrà capitare, due volte in un tempo relativamente lungo forse il giudice le potrà considerare ordinarie, tre volte o più volte in tempi ristretti o una volta con modalità particolari e particolari, bene, dobbiamo andarci a guardare dentro, nell'interesse dei vostri e dei nostri ragazzi.